Buonasera a tutti e benvenuti sono anche Alpogolo faccio una frase non dovrei mettere a dire perché io sono natural scusate 100 per 101 eh 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 signo Pedudotto signo Pedudotto eh 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 signo Pedudotto signo Pedudotto eh 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 signo Pedudotto Iscriviti al canale Non so cosa pensate, è un po' emozione, capito, per quello se faccio frappello senza ridere, io attento che se sarei un spazio non volevo sentire ridere, però, scusate, allora, scegli un petto tolto, 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 scegli un petto tolto. Scegli un petto tolto. Scegli un petto tolto